Ecco, quali sono le complicanze possibili del mieloma? Cioè, come si possono a questo punto, non tanto nella fase di recidiva quanto nella fase di prevenzione, si possono prevenire addirittura limitare? Le complicanze nel paziente affetto da mieloma sono complicanze relative alla patologia stessa, cioè al mieloma, oppure ai trattamenti. Le complicanze legate al mieloma sono soprattutto quelle scheletriche e quindi il rischio di fratture, per cui è molto importante che ci sia un approccio multidisciplinare nel paziente con mieloma, quindi non soltanto l'ematologo che cura il mieloma, ma anche l'ortopedico. L'ortopedico che controlla la consistenza ossea. Esatto, il neuroradiologo che intervenga laddove c'è un danno in maniera precoce per ristabilire quella che è la funzione dello scheletro o per prevenire danni ulteriori. E' stato un lavoro di team, un lavoro di team, un grande comunicazione interdipendente. Siete interdipendenti gli uni degli altri anche voi nella parte di diagnosi? Assolutamente sì.